Ciao, ciao, oggi parleremo di Novotrix. In particolare parleremo di Innovafert da Novotrix, di Daniele Lombardi. Stay tuned! Ebbene, Novotrix di Daniele Lombardi. Cosa succede? Questo è un collage dove ci sono io, come soprano di questo brano, Mimo Palladino, qua vedete un disegno, Mimo Palladino ha sempre lavorato sui disegni legati alle metamorfosi sulla richiesta di Daniele. Qui vedete solo un frammento di un'opera tonda che si chiama Il caos, una partitura per voce che ho eseguito alla fine di questa azione scenica. E' un'azione scenica su 14 frammenti dalle metamorfosi di Ovidio. Eravamo qui, siamo nel giardino del Palazzo Pitti, accanto a una scultura contemporanea. Ma io oggi, in realtà, vorrei dettagliatamente parlarvi di questa partitura, che si chiama Innovafert, la voce femminile, è composta nel 98, poi nel 2018, viene eseguita proprio all'interno dell'azione scenica, la quale fu destinata dal principio. Però Innovafert l'abbiamo eseguito tantissime volte nei musei in Italia e all'estero da sola. E' un pezzo lungo, è un terzo di tutta l'opera scenica, però per sapere se vi interessa o meno, vi propongo solo un assaggio, un minuto di intera opera, perché poi successivamente deciderete se ascoltarla o meno, se dedicare il tempo o meno. In alto è la partitura, sono 14 tavole, qui sono proprio in miniatura, perché in realtà ciascuna di queste pagine è un foglio A3, proprio con pezzo è stato scritto sulla carta da disegno. Sentite un po'? Ya! Ja! Non! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ebbene, qui ho cantato, credete o no, di forme mutate in corpi. Vedete dopo o meglio la partitura, le lettere, una lettera scritta più volte. Non è un pezzo che vuole letteralmente portare versi di Ovidio. Questo è il primo canto dalle metamorfosi proprio di Ovidio. Se volete proseguire questo viaggio con me e ascoltare anche questo intero video, è in bianco e nero, non perché molto vecchio, è del 2013, è stato registrato e poi con la regia è montato da Carlo Prevosti per l'insolito cinema. Cos'è la scrittura musicale? Sono tante, tantissime cose. Quando parliamo di scrittura musicale non possiamo pensare che la musica si può esprimere, possa esprimere solo con il pentagramma. Esiste, oramai nel ventunesimo secolo, possiamo parlare di scritture musicali e tantissime scritture musicali, tra le quali esistono anche, soprattutto nel novecento, sono nate tantissime scritture che non usano il codice cifrato, che è quello della musica tradizionale o della classica o comunque pentagramma. Non è l'unica soluzione, ma non possiamo neanche dire musicale, attoria in generale, perché la partitura citografica può contenere diversi codici. Adesso, ecco, urge questa promessa. Cosa sono questi codici? Cinque principali sono il codice cifrato, il pentagramma, il codice analogico, la partitura di cui vi parlo, appunto, scritta proprio attraverso questo codice. Di scrittura musicale, il codice verbale è una delle soluzioni, John Cage la utilizzava tanto, il codice visivo e possiamo prevedere anche un'assenza di codice. Il modo più antico di trasmettere la musica è dall'uomo all'uomo. Il codice cifrato vuole essere più preciso possibile, determinare l'altezza, il ritmo, la dinamica, le agogi che le aggiunge addirittura perché ha capito che non era sufficiente rappresentarle, perché il fenomeno sonoro è molto complesso, ha tantissimi parametri. E questa la convene male, tutti i musicisti conoscono e studiano proprio il pentagramma. Nella musica elettronica si usa il diagramma, si usano gli algoritmi, e poi il computer stesso, essendo così potente, può anche restituire una notazione di quello che il compositore ha proposto. C'è un ID che poi viene letto in automatico. Quando parlo di codice analogico, invece, è il contrario del cifrato. Il codice analogico non è tanto preciso, perché il suo presupposto è di fare l'analogia tra la percezione di quello che vedo e quello che sento. C'è sempre la rappresentazione dei parametri spazio-temporali, perché ovviamente il codice di pentagramma sempre nello spazio cerca visivamente di rappresentare quello che è sonoro. Ma qui ancora di più. Qui la preponderanza visiva è evidente, addirittura che diventi una sinestesia. Il concetto è introdotto in psicologia all'inizio del Novecento, e in effetti è dall'inizio del Novecento che cominciano a nascere sempre di più bisogni dei compositori a comunicare la musica e l'evento sonore e a descriverlo attraverso un codice analogico. Quindi, qui non abbiamo le note su pentagramma, però le abbiamo disposti visualmente nello spazio, e quindi io sono anche libera di immaginare sotto un pentagramma. E quindi l'andamento di questo ideogramma, se va in alto, posso immaginare come è in vari, suggerito da John Cage, da Katie Barbarian, loro suggeriscono questo andamento verso alto che diventa appunto suono più acuto. Per esempio, l'evento più grande o più piccolo, la dinamica che cambia, ok? Quindi ci sono vari modi di rappresentare. Ricordiamoci che i compositori in Italia, l'ordine dei compositori, hanno i gattini, l'illustratore di Schubert, cioè i gattini che camminano sulla partitura. Immaginiamo che dove toccano il pentagramma, i gattini, possiamo intenderli come le note che suonano. E quindi, in realtà, può essere solo un simbolo dell'associazione dei compositori, ma alla fine può essere anche letto. Se uno ci si mette di impegno, io potrei leggere con la mia voce quello che i gattini toccano sulla pentagramma. E lì abbiamo già un aspetto analogico, che non è più la scrittura tradizionale. Oltre il codice analogico, abbiamo il codice verbale. Il codice verbale lo troviamo già attraverso la scrittura cosiddetta tradizionale, perché piano piano, oltre le notte, hanno cominciato a utilizzare vari segni che descrivono alcuni aspetti sonori e li intendiamo come dinamica, aspetti dinamici o agogici. Senza questi, tutti quei rallentandi, ritardandi, eccetera, la musica veramente perderebbe l'anima. Ma pensiamo di staccare questi aspetti dell'agogica e che questo diventa proprio un codice a sé, codice verbale. A volte si parla anche delle prescrizioni al suono. Non sono prescrizioni a volte, in John Cage, sono verie e proprie azioni sceniche da eseguire, che avranno come sottofondo anche qualcosa che è evento sonoro. Sappiamo che con russolo, con futurismo italiano, è stata emancipata la, non solo dissonanza con l'espressionismo tedesco, ma diciamo che l'espressionismo italiano ha veramente emancipato il rumore. È quello che è stato l'evento della loro epoca, cioè l'industria, vari rumori che facevano parte dell'ambiente e questi entravano a far parte veramente del linguaggio musicale. E come facciamo a segnare tutti quei rumori a livello espressivo? Possono avere un significato, però paesaggio sonoro, con Schaeffer, eccetera, successivamente ci sono vari aspetti di questi linguaggi, diciamo, musicali extra, extra altezza, no? E quindi queste prescrizioni al suono servono anche, veramente sono fondamentali per produrre determinate qualità sonore che non sono di un'altezza precisa, che di nuovo questo codice verbale potrebbe viaggiare parallelamente ad altri codici. Nel codice visivo c'è tutta quella intelligenza visiva, che non è più, è visuo, è spaziale, non è più intelligenza verbale. A scuola si predilige sempre questo aspetto verbale, che è quel codice simbolico, difficile, eccetera, struso. Invece nel codice visivo, noi che siamo un'epoca dell'immagine, è ovvio che l'immagine di per sé è comunicativa, anzi è molto più comunicativa della parola. E' un'immagine comunicativa per tutte le varie lingue, l'immagine la comprendiamo ugualmente, mentre la parola, essendo simbolica, dobbiamo proprio conoscere quel codice, quel simbolo per poter leggerlo. Quindi il codice visivo può diventare veramente un codice, usiamo fotografia, un'immagine, disegni per sollecitare stati d'animo, eccetera, e per guidare poi attraverso l'immagine all'esecutore, per esempio, mi viene esempio, dei gesti sul piano di Walter Chiari, dove l'autore fotografa le parti del corpo, avambraccio, il pugno, eccetera, che parte del corpo utilizzerà il pianista, e fotografa la parte della tastiera. Quindi si sa che quello è il pianoforte, non può essere un altro strumento, si sa che userà quella zona del pianoforte e che userà quella parte del corpo. Le altezze precise, il ritmo preciso, magari non è, non identifica, no? Non gli importa, però quello è una prescrizione precisa. E ovviamente che quel pezzo sarà riconoscibile attraverso proprio quella sua caratteristica. Mi è venuto questo, ma ce ne sono marea di esempi. Assenza di codici, in ultimo, come quinto, quinta possibilità di codici più diffusi, più, diciamo, proprio per dare un preciso taglio, è l'assenza di codici. Pensiamo alla musica antica, che ancora oggi, musiche sarde, vengono trasmesse attraverso proprio un'eredità dall'uomo all'uomo. Pensiamo alla Chiesa per quanti secoli è andata avanti, prima di inventare una scrittura musicale. E comunque, anche oggi, per la tradizione di un paese, è fondamentale ancora questo aspetto umano, perché tante persone vengono in Italia a studiare, perché hanno bisogno di collegarsi proprio alla cultura, dove quello stile, tipo l'opera, ha sua origine. Quindi caratteristica del suono, che non può essere scritta, è trasmessa proprio in assenza di codice. Però qui abbiamo anche l'improvvisazione. L'improvvisazione si usa in tanti generi. Pensiamo alla musica jazz. Lì si usa proprio l'improvvisazione sugli schemi, usa gli accordi, dà uno schema e poi lo traspone in un'altra tonalità. Ma lo schema è fondamentale e basta lo schema per creare tanti minuti di musica. Così anche nella musica contemporanea colta ci sono parziali improvvisazioni, autotali improvvisazioni, eccetera. E quindi anche lì non abbiamo un codice di scrittura. È prevista proprio l'assenza di... Cioè proprio non vuole prevedere, non vuole fissare le altezze. Quindi alle autorità, in questo senso, può essere un arricchimento, una possibilità oltre segnare la partitura in modo più preciso. Quindi adesso, dicendo questo, posso anche parlarvi di Nova Fert. Come abbiamo detto, Nova Fert è una partitura che usa il codice analogico. Ahimè, questo compositore non mi ha lasciato neanche una prescrizione, perché John Cage, quando faceva le prescrizioni, era anche tanto generoso. Daniele Lombardi, in questa partitura, qui avete i miei tempi, porta tutto al colore, al segno, alla grandezza del segno, alla ripetizione, quindi della lettera, alla spazialità, a queste pagine di A3. E quindi devo dire che all'inizio proprio non sapevo da che parte girarmi. per il fatto che non mi ha dato le note precise, ma che vedevo questo muoversi nello spazio, che mi faceva un'allusione a qualcosa di altezza, a qualcosa di dinamica, eccetera, ma io dovevo tirar fuori la mia intuizione e creare delle notte, creare delle melodie. Quindi è un atto co-creativo per un esecutore. Il Nova Fert fa parte di Nova Trix, nel 2018 proprio fa parte dell'azione scenica. ed è stato scritto però nel 98. Mimo Paladino fa le immagini, quindi un'azione scenica che comprende vari elementi, un'opera multimediale, ha un ensemble, il direttore, Marcello Panni, una voce recettante che a Roma è stato Valerio Magrelli, il poeta in italiano. Una danzatrice, Maria Elena Curzi, che a sua volta crea le coreografie per sue due uscite in scena, ed è composta da 14 frammenti dalle metamorposi di Ovidio. Diventa un flusso ininterrotto, ovviamente, di vari pezzi, che si intrecciano con la proiezione delle partiture di Daniele Lombardi, che sono visive, ma non sempre, combina vari codici, ecco perché dovevo introdurlo, e le immagini di Mimo Paladino, che anche loro, queste immagini, vengono trasformate in una realtà virtuale, ma a sua volta un artista visivo, del video, del video, trasforma i disegni di Mimo Paladino in un'opera video. Quindi qui ci sono tanti aspetti creativi, per ogni esecutore, in realtà diventa co-creatore. In parte ci sono anche a volte le scritture, proprio con le notti, a volte no. Dura 60 minuti, nasce all'inizio degli anni 90, e si chiamava allora la Atta Novatrix. Venne eseguita alla Fattoria Celle durante l'inaugurazione di un'opera, di un teatro scultura, pensate, un teatro all'aperto, che a sua volta è scultura. Quindi nostra epoca mescola i linguaggi. Quindi da Giuliano Gorgori a Pistoia all'Aperto. E Daniele propone questo allora alla Atta Novatrix, che conteneva alcuni elementi di quello che nel 2018 sarà un'opera completa, scenica, come un'opera contemporanea, musicale. Ed ecco qui, è un assaggio, un ascolto audio, della voce di Valerio Magrelli, proprio live a Roma 2018, pubblicato da Roma. Tre orchestra su YouTube e pubblicato come audio. Vorrei solo introdurlo per mettere a confronto una voce narrativa, una voce recitante in italiano, che esprime le parole in modo, come dire, lineare, concreto, comprensibile, al contrario di quello che in realtà poi è diventata la voce di soprano, che volutamente non è comprensibile. Si rivolge un altro aspetto, un pensiero, il pensiero così detto divergente, più creativo, soprattutto molto più astratto. Le parole vengono totalmente fatte a pezzi, le lettere assumono aspetti sonori, anche coloristici. Ogni lettera viene reiterata moltissime volte attraverso metamorposi anche dei colori, degli stati d'animo, eccetera. E quindi la stessa lettera è portatrice di un significato sonoro. E quindi è difficile che nel mio canto comprendereste questo testo. Non è proprio obiettivo, però c'è un'analogia tra vari sensi e sentiamo un po' la parte veramente del contenuto testuale interpretata da Valerio Magrelli. L'estero mi spinge a narrare di forme mutate in corpi nuovi. O Dei, anche queste trasformazioni furono pure opera vostra. Seguite con favore la mia impresa e fate che il mio canto si snodi ininterrotto dalla prima origine del mondo fino ai miei tempi. e così via. Fermo qui volutamente perché non è il momento per sentire i nuovi offerti integralmente. per chi volesse sentire 23 minuti di canto della metamorfosi con Oca Nora su questo testo lo potrà fare accedendo tramite il link pubblicato qui sotto il video. O per chi volesse ascoltare integralmente l'opera Novatrix idem potreste accedere attraverso il link a questa pubblicazione fatta da Roma 3 Orchestra. E invece io adesso vado avanti a parlarvi di altri aspetti di questa opera scenica. Ecco qui siamo davanti alla proiezione del video delle immagini di Memmo Paladino. Come sono state pensate? Oltre alle partiture di Daniele Lombardi elementi visivi analogici di questi codici analogici abbiamo anche video realizzato da Video Art Media Studio di Firenze quindi Vincenzo Capalbo insieme all'autore al compositore lo studio inventano questo modo di rappresentare la metamorfosi delle immagini di Ovidio ovviamente nero su bianco qui diventa bianco con lo sfondo nero piano piano un velare un disegno si trasforma come il fumo in un fumo che poi a sua volta da questa massa del caos dell'immagine si concretizza in un'immagine vera e propria ecco questo è un'altra analogia che Daniele fece ed è strepitoso il suo modo di inventare sempre diversi modi è proprio veramente la ricchezza creativa di Daniele Lombardi è una fonte infinita invece qui abbiamo fatto sentire proprio l'introduzione dell'opera con la voce di Valerio Magrelli invece l'azione scenica si Novatrix si chiude con il caos un altro pezzo per soprano ma in questo caso ci sono tutti gli altri elementi violoncello flauto clarinetto violino percussione pianoforte e queste vedete intorno a questa partitura tonda che è proprio parte quindi un codice visivo anche elementi cifrati dentro il labirinto per soprano e punti segnati con asterisco viola fucsia sono i momenti in cui il direttore d'orchestra dà il cenno allo strumento che poi prosegue nel corso del labirinto la parte delle percussioni non è cifrata invece gli altri elementi sono cifrati ma sono elementi che utilizzeranno all'ingresso e poi si trasformano in un'assenza di codice loro stessi creeranno un'improvvisazione quindi si crea veramente un caos la parte delle percussioni invece è sempre tonda con aspetto analogico e a colore molto interessante si chiama anche quel pezzo quello studio si può eseguire anche come pezzo a sé io adesso proprio farò sentire pochissimi secondi dell'inizio del caos e poi alcuni secondi della nostra esecuzione non è il momento per affrontare il caos però solo per dare un'idea di questa opera poi chi vuole ripeto potrà accedere tramite link sotto in questo video e ascoltarla integralmente prima del mare della terra e del cielo che tutto ricopre unico indistinto era l'aspetto della natura in tutto l'universo e lo dissero caos mole informe e confusa nient'altro che peso inerte ammasso di germi di cose mal combinate nessun titano ancora donava al mondo la luce né febe ricolmava crescendo la sua falce né la terra trovato il proprio equilibrio stava immersa e sospesa nell'aria né anfitrite aveva proteso le braccia a recingere i lunghi orli della terra ferma e andiamo avanti a e a e a a a a a a a l'estero ok così avete anche un'idea dell'opera scenica di cui fa parte Innova Fert qui siamo di fronte proprio al progetto, progetto vero e proprio Daniele prepara questo, ogni lavoro complesso, lo sappiamo bene anche in musica richiede anche le fasi di progettazione, è un lunghissimo lavoro questo progetto ve lo faccio vedere proprio perché per far vedere anche Die Celle Lari di Mimo Paladino, Daniele le riporta qua vediamo anche alcune parti della corrispondenza epistolare tra l'artista visivo e l'artista musicale, cioè Daniele Grumbardi che era compositore in sostanza e musicista visivo, come mi piace chiamarlo qui lui dà le indicazioni, ma visto che Innova Fert è un percorso trentenale dall'inizio degli anni 90 al 2018 disegni giungono a Daniele circa a metà di questo percorso il rapporto di Daniele con l'artista, l'opinione, si deduce da quello che lui indica nelle note di sala Novatrix è un'azione scenica nata anche grazie al prezioso intervento di Mimmo Paladino che ha realizzato una serie di magnifici disegni di velari e di schemi di regia per il futuro sviluppo di una nuova versione della partitura che in questo allestimento è in prima esecuzione assoluta Daniele purtroppo ci lasciò due giorni dopo realizzazione di questa opera in scena si progettavano, Daniele aveva in mente di portarlo in scena anche a Ravenna e a Firenze l'anno dopo, nel 2019, in una coproduzione con l'orchestra Cherubini quindi tra due teatri e riscrivendo anche facendo la versione proprio per l'orchestra intera, grande, qua abbiamo avuto un ensemble strumentale questa è la presentazione che troviamo nel progetto come vi ho detto è stato poi in itinere cambiato proprio in ultimo però questa era una sintesi un po' più breve rispetto a quella pubblicata in sala per anni ho elaborato figure e storie mitologiche già nel 1985 avevo realizzato Proteo 18 videoclips sul terzo capitolo dell'Ulisse di James Joyce per quattro pianoforti un lavoro sulla trasformazione, sulla verità inafferabile nell'attimo della metamorfosi nel successivo Faust-Stimmung del 1987 ripercorrevo il patto diabolico Fela-Faust in una dimensione di delirio che raccontava il passaggio utopico dal mondo sonoro a quello silenzioso delle immagini in Amor d'un'ombra e gelosia d'un'aura 1988 toccavo il mito di Narciso ed ecco attraverso la lettura poetica di Paul Valéry finalmente con Novatrix sprofondo nell'abisso di un testo le cui immagini metamorfiche sono continui diversi punti di vista per orizzonti prospetici vertiginosi nell'arco della sua durata questo lavoro incentra l'attenzione sulle connessioni dal mondo meccanico degli strumenti il cui effetto sonoro è sempre riferibile alla fisica produzione ai sistemi digitali che campionano un'immagine identica della fonte sonora apprendo poi limitati orizzonti di trasformazione mentre la voce anch'essa, trattata con i Live Electronics si appoggia su queste fonti sonore e dai gemelli viene affidata la funzione di voci recitanti si tratta quindi di un mixed media, di un'azione danzata di un'opera nella quale suono, segno e gesto sono sottilmente attratti tra loro in un intreccio quando guardiamo questi disegni di Mimmo Paladino adesso li vedremo tutti e dieci vengono accompagnati anche dai nomi dei brani di Daniele Lombardi proseguo per far vedere tutti i disegni di Paladino qua Daniele mette insieme anche frammenti delle sue partiture e gli organici di questi pezzi che associava ai disegni le partiture vedete sono anche a volte cifrate in ogni modo Daniele predilige il manoscritto che è insolito nei tempi nostri ma da un artista, cioè lui aveva anche la formazione dell'artista visivo per cui ecco il lecito non poteva fare a meno sono vari tipi di codici Daniele è un intellettuale, musicista, molto completo quindi esperto di simografia musicale questo è il disegno che avete visto già nel video il nuovo offert, Daniele lo pone qua come ho detto è intercalata in realtà in mezzo a dei vari pezzi il piombo che vola e volandosi fa incandescente gli ultimi due velari li vediamo qui come ghiaccio trafitto da sole incerto non sono, tremolando non è finale il caos è il pezzo che chiuderà Novatex adesso vi vorrei far sentire la versione di Nova Fert che dura 5 minuti è una versione da concerto che insieme a Daniele ho pensato perché in alcuni contesti andava fatta nel concerto ma ovviamente era troppo lungo come da sola, come pezzo e qui abbiamo fatto questa scelta di partire dalla parola che scorre più velocemente quindi inizia il primo canto di Ovidio come è utilizzato nel lavoro di Daniele però veramente canto le ultime tre tavole della partitura scorro velocemente in una metamorfosi dalla parlato al cantato piano piano si abbandona la parola si va verso l'astratto e nelle ultime tre tavole effettivamente eseguo quello che è il mio progetto il mio modo di interpretare questa partitura l'estero mi spinge a narrare di forme mutate in corpi nuovi oh Dei anche queste trasformazioni furono pure opera vostra seguite la mia impresa con favore fate il mio canto si snodi qui è il mio progetto qui è il mio progetto la mia impresa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.